Eh beh, insomma, come ha detto un professore in conferenza d'Ateneo, mi devo un po' abituare a essere chiamato così. E intanto benvenuti a tutti, buongiorno a chi è a quelli che conosco o a quelli che non conosco. Adesso io non so come vi volete articolari questo incontro. Io, insomma, dirò pochissime cose, poi semmai fate voi delle domande, ci fate delle domande su quello che ritenete più interessante. Premesso che io ancora non ho formalmente preso servizio, ma comunque sono stato eletto con un risultato che, devo dire, ha sorpreso anche a me, perché comunque è stato un risultato molto positivo, dove credo sia stato così premiato e valutato anche il lavoro che ho fatto in questo Ateneo per vent'anni, in modo costante e con passione. Noi veniamo da un rettorato, quello di Marco Mancini, che molto ha fatto per questo Ateneo e lo ha portato fino ad oggi in una condizione economica assolutamente invidiabile e anche con un contesto e una presenza dell'Ateneo sul territorio molto significativa. Quindi il punto di partenza non può che essere raccogliere questo ideale testimone e proseguire in un lavoro che naturalmente sarà diverso da chi mi ha preceduto, perché diverse sono le teste e diverso anche il contesto nel quale sta maturando l'avvio di questa attività, perché fatte le debite e proporzioni, un contesto economico molto difficile, qui rischio di annoiare e lo dirò solo una volta, perché è bene che questo sia un po' la stella volare che debba guidare il cammino di questi anni, e cioè sempre contemperare l'esigenza di assicurare un bilancio di salute, un bilancio che dovrà tenere conto di quello che leggerete, che conosce meglio di me, e cioè i tagli che in modo quasi lineare ogni anno si ripetono, vanno a colpire il sistema universitario più generale, quello dell'istruzione. Noi dovremmo cercare di contemperare questa situazione, con l'esigenza però di assicurare quegli investimenti necessari a garantire la sopravvivenza dell'Ateneo, ma anche la sua crescita, in un territorio che, questo legame col territorio per me è molto importante, in un territorio che già di per sé è un territorio sofferente, dove come sapete è un territorio che ascolta una crisi importante, dove l'unico realtà produttiva, come si indiferiva a quello del distretto, è una situazione molto difficile, dove complessivamente, insomma come tutto il paese, l'economia soffre. Per cui è importante che da questo punto di vista l'Ateneo possa continuare ad avere e sviluppare ulteriormente questo rapporto di relazioni con tutti i partner del territorio, dal punto di vista economico, sociale e culturale, quindi questo sarà un po' la stella volare di questi sei anni. E naturalmente questo lo dovremo fare con questo metodo che io, in cui io credo fermamente e che ho cominciato ad applicare in questi giorni, con le prime anche difficoltà, nel senso che noi dobbiamo riprendere questa barca e farla andare con i suoi indeggiamenti, perché questa è una barca che ha 620 persone, ciascuno delle quali ha una sua testa, ciascuno delle quali hanno una sua idea che anche il fatto di essere stato eletto con queste percentuali significa che comunque le persone hanno percepito l'esigenza in questo momento difficile di avere una guida stabile e di attivare quel processo di condivisione e coesione per valorizzare poi quelle che sono le eccellenze di questo Ateneo, ma far crescere anche tutto l'Ateneo che possa poi in questo modo fornire un servizio più efficace agli studenti, alle famiglie, al territorio e al Paese. Questo in sintesi è il quadro politico. Il quadro politico che poi sarà spalmato nei suoi vari ambiti, ovvero nella didattica noi rafforzeremo quelli che sono i corsi tradizionali quindi senza perdere di vista la tradizione ma cercando anche di innovarci, innovarci sia con corsi nuovi, alcuni dei quali sono già partiti in questi ultimi due anni, penso lo scorso all'ingegneria, giurisprudenza e però mantenendo quella tradizione, quei poli di eccellenza che da sempre hanno malatterizzato la storia dell'Ateneo. Questo per quanto riguarda la didattica quindi anche con una futura razionalizzazione perché questo deve finire sempre nel rispetto dei vincoli di natura economica ma anche e soprattutto questa sarà una cosa importante cercando di fare in modo, anticipando un po' questo è il vantaggio di avere un Ateneo piccolo e flessibile, anticipando un po' quello che secondo me sarà sempre di più del futuro ovvero fare dei corsi di studio che siano mirati alle prospettive occupazionali dei giovani perché quello che è un grande problema del Paese, che è un problema del lavoro noi dobbiamo andare a fare la nostra parte per risolvere, la nostra parte può essere solo fare i corsi bene ma fare anche corsi che siano mirati, cioè proviano alle persone una prospettiva occupazionale. Questo per quanto riguarda la didattica per quanto riguarda la ricerca l'obiettivo sarà valorizzare le eccellenze dell'Ateneo far crescere tutta quella parte dell'Ateneo che è di grande valore ma che ancora non riesce adeguatamente ad esprimersi perché non ha risorse o perché non è inserita in quei network di ricerca al di fuori dei quali oggi è difficile fare ricerca. E quindi la ricerca dovrà avere un respiro internazionale quindi un ricorso molto più forte, un rafforzamento della prospettiva internazionale della ricerca, penso essenzialmente all'Europa, penso a Bruxelles ma penso anche a quei progetti di cooperazione nel mondo che noi dobbiamo rafforzare. e li dobbiamo rafforzare tenendo presente che l'Ateneo sarà sempre un Ateneo che ha sede in questo territorio perché qui è la sua storia ma Universitas dovrà avere anche un respiro internazionale. Quindi queste sono poi le linee in guida sulla didattica e sulla ricerca e poi naturalmente cercheremo di lavorare moltissimo con gli studenti, non sugli studenti ma con gli studenti che sono una componente fondamentale dell'Ateneo. Io ho sempre lavorato con gli studenti prima che per gli studenti e questo dovrà essere un aspetto importante perché noi dobbiamo crescere anche, come dobbiamo cercare di rafforzare anche la dimensione dell'Ateneo e quindi attrarre studenti. Un Ateneo riesce ad attrarre gli studenti oggi se è competitivo per la didattica, se è competitivo per la ricerca ma anche se offre servizi e se è un Ateneo a misura d'uomo dove come oggi già avviene gli studenti si sentano seguiti, si sentano capiti e abbiano un rapporto diretto con i professori. Queste sono cose semplici ma secondo me rappresentano una leva importante per lo sviluppo futuro di questo Ateneo e da questo punto di vista devo dire che insomma i rapporti che abbiamo con gli studenti che ho costruito in questi mesi e che ho da vent'anni sono che mi fanno guardare con ottimismo a questo profilo. E poi c'è l'aspetto di maggiore competenza del direttore generale che è quello anche un po' della innovazione, della riforma, della riorganizzazione dell'Ateneo che non può che passare da un maggiore ricorso, sempre più forte, alle nuove tecnologie, all'innovazione. Quindi questo significherà nuovi servizi per gli studenti, questo significherà è uno slimmimento, è una maggiore flessibilità in tutte le procedure organizzative perché il fatto anche che noi abbiamo dei vincoli di bilancio molto stretti ci deve spingere a fare le cose con efficacia, con efficienza e con trasparenza. Questo è un po' e poi alla fine ma il collante di tutto questo è l'università aperta sul territorio, aperta sul territorio dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale perché io devo dire che anche vivendo in questa città e frequentando a vario titolo e con vari rapporti il tessuto socio-economico di questa città vedo che tante cose che fa l'Ateneo ancora oggi non sono sufficientemente conosciute. Quindi dobbiamo fare un grande sforzo per anche però attivare una politica di comunicazione di quello che fa l'Ateneo che sia efficace e che riesca a rendere bene tutto quello che facciamo in modo anche che poi noi insomma prendiamo, gran parte dei nostri studenti vengono da questa città e da questo territorio quindi il rafforzamento dei legami del territorio non può che avere innanzitutto quello che per me è importante, una valenza sociale. Non dimentico che tre anni fa, lo dico sempre in tutte le occasioni, questo Ateneo, una ricerca che fece l'Espresso, era il primo Ateneo in Italia per crescita sociale, cioè quello in cui i laureati avevano entrambi i genitori non, cioè i nostri studenti avevano entrambi i genitori non laureati, che significava comunque un aspetto significativo di valore sociale che questo non era sul territorio, questo deve rimanere e deve rafforzarsi perché poi noi gli studenti li prendiamo non solo ma soprattutto da questo territorio, quindi ci deve essere chiara la percezione di quello che l'Ateneo può fare per il territorio. Ecco, questo diciamo, sono molto sintetico ma tutte queste cose stanno già nel programma quindi poi credo che questo sia il, diciamo, poche cose concrete che crede che noi possiamo fare in questi anni. Poi non so se...